Expo 2000 Mobili Da 50 anni è la più grande struttura interamente dedicata al mobile in Abruzzo. La nostra esposizione ospita una vastissima scelta di articoli selezionati tra i migliori produttori del mobile in Italia. Non dovrai mai pentirti pescette fatte solo sulla carta perché il nostro assortimento è davvero incredibile e ti permette di scegliere con sicurezza valutando l'estetica e la qualità dei prodotti dal vivo. Scegliere ed assembrare il tuo arredamento con noi sarà semplicissimo. Grazie alla progettazione in 3D potrai vederlo già collocato a casa, dandoti maggiore sicurezza sui colori e sulle scelte fatte. Nel centro camere e camerette una moltitudine di ambienti esposti aspettano la tua visita. I migliori marchi ti aspettano per soddisfare qualsiasi esigenza di spazio e di gusto. Expo 2000 ti riserva sempre tante emozioni con il nuovissimo centro cucine realizzato oggi pensando al design del futuro. Cucine all'avanguardia concepite per arredare casa con qualità e stile unici nel loro genere ma a prezzi decisamente interessanti. Tra le tante novità c'è anche il nuovo centro divani Divanità che raccoglie tutte le principali soluzioni disponibili nel mercato, sempre aggiornate e innovative. Scopri la qualità dei prodotti dei veri artigiani italiani a prezzi incredibilmente unici. Qualche esempio? Divano 3 posti più divano 2 posti in 18 colori di fibra pelle a 990 euro. Ed inoltre il nostro arredo completo per casa a 6.990 euro che comprende cucina componibile velvet con corpo inclinato completa di tutti gli elettronomestici, zona giorno sospesa con particolari curvi, camera marimoniale, con letto contenitore, armadio intamburato di abete, cassettiera interna, comò e comodini. E con solo un numero in più avrai il tavolo allungabile da 6 a 10 posti con 4 sedie a scelta tra 4 modelli. Expo 2000 Mobili è a Silvi Marina, strada statale 16, a un chilometro dall'uscita Pescara Nord. Ti aspettiamo tutti i giorni, inclusa la domenica pomeriggio. Grazie a tutti i giorni.